Questo è il terreno che si è rotto stanotte, sulla parte di costa a Capriglio, siamo in una frazione di Capriglio. Quella che vedete invece lì su davanti a noi è la frana che preme e che porta verso il fiume il torrente, verso il fiume tutta la montagna. Si può vedere lì in fondo un cavo che era 50 metri più in alto, che pian piano sta scendendo.